buonasera a tutti qui abbiamo un po' di nuove interviste del ciclo dei talentuosi le trovo molto godibili fatemi sapere se vi interessano se vi piacciono iscrivetevi al canale fate girare potrebbero essere molto utili per l'elevazione di coscienza che è quello che oggi forse potrebbe aiutare questa rivoluzione delle coscienze quindi grazie per seguirci e grazie per passare parola alla prossima con un nuovo con una nuova raccolta di interviste